Ciao a tutti, sono Francesca di Dressage for Jumping. Oggi vorrei parlare con voi della partenza al galoppo. Nel nostro libro manuale per il primo grado trovate tutte le informazioni sulla partenza al galoppo, quindi tutte le immagini sulla partenza per perdita di equilibrio, partenza per presa di equilibrio, eccetera, però vorrei parlarne con voi perché è un argomento veramente molto importante. Molti cavalli partono al galoppo a caso, nel senso che il cavaliere non ha un'idea che esistano diversi modi di partire al galoppo e cerca di partire come riesce. Nella realtà gli addestratori professionisti hanno diversi modi per partire al galoppo che dipendono dal livello di addestramento del loro cavallo. Si parte dal puledro, quindi puledro molto giovane che ancora non conosce gli aiuti, non ha appunto dimestichezza col cavaliere, per farlo partire si utilizza la voce. Quindi la persona a terra che ha addestrato il cavallo alla corda ha insegnato al cavallo a partire al comando vocale galoppo e al segno della frusta che fa vedere che bisogna partire al galoppo. A questo punto viene messa la persona sul cavallo e di nuovo la persona a terra dice galoppo, fa vedere la frusta, il cavallo parte. Poi la persona sulla sella inizia a insegnare al cavallo quali aiuti precedono la richiesta della persona a terra fino a quando la richiesta da sella sarà sufficiente per partire. Il cavallo giovane, quindi questo puledro di cui stiamo parlando, così come tutti i cavalli poco addestrati, partono per rottura di equilibrio. Cosa vuol dire? Vuol dire che stanno trottando, li si chiede di accelerare il trotto, a un certo punto trottare diventa una cosa scomodissima perché sto andando troppo veloce e quindi naturalmente il cavallo parte al galoppo facendo in questo modo però parte perdendo l'equilibrio in avanti perché dissocia il diagonale partendo dall'anteriore e questo lo trovate ben spiegato nel libro. Cosa vuol dire questo dal punto di vista pratico? Vuol dire che io parto con un cavallo che mi cade sulle spalle e che accelera perché sta perdendo l'equilibrio. Quindi è molto difficile poi riequilibrarlo, rimetterlo a posto, eccetera. Quindi quando ho un cavallo più esperto io non devo partire in questo modo, quindi non devo partire accelerando il trotto il più possibile e buttando il cavallo sulle spalle, ma devo partire per presa di equilibrio. Quindi devo insegnare al cavallo a partire portando il peso sul suo posteriore esterno. Quindi il cavallo si flette sul posteriore esterno e parte in questo modo. Quindi la partenza, la dinamica del galoppo diventa questa. In alto, due, tre. In alto, due, tre. E questo è il galoppo che vedete sui cavalli ben addestrati, per esempio sui cavalli da dressage, ma lo vedete anche sui cavalli da salto ostacoli a livelli alti. Quindi prendo il galoppo per presa di equilibrio, quindi per un equilibrio che va sul posteriore esterno. E quindi è ovvio che se io voglio partire in questo modo darò degli aiuti diversi a quelli che do per partire per perdita di equilibrio. Quindi è importante capire questi concetti per poter aiutare il cavallo a partire e a galoppare nel modo corretto. Ricordiamo che gli aiuti sono un aiuto che il cavaliere dà al cavallo. Se il cavaliere non conosce la biomeccanica del movimento, ovviamente non potrà aiutare nessuno. Quindi studiate bene la teoria e mi raccomando cercate di riflettere sul tipo di galoppo che ha il vostro cavallo, sul modo con cui parte, in modo da poter aiutare a migliorarsi. Ci vediamo presto! Grazie a tutti!